Partiti, seconda corsa in programma, premio Clemente Pappi, trofeo Agri, 1800 metri riservato a Gentleman Rider, con Sparti Vento Chia che prende il comando delle operazioni nei confronti di Elusive Didi, all'interno la selvetta con all'esterno Yaki Mahora, quattro cavalli in linea al passaggio con Elusive Didi che prende il comando nei confronti di Yaki Mahora, Elusive Didi, Yaki Mahora, Sparti Vento Chia, la selvetta. In quest'ordine i cavalli affrontano la prima piegata con il battistrada Elusive Didi che guadagna tre lunghezze nei confronti di Yaki Mahora, la selvetta e Sparti Vento Chia. Reta opposta affrontata in quest'ordine dai quattro concorrenti con il battistrada Elusive Didi che ha tre lunghezze di vantaggio che si vanno assottigliando, aumenta l'andattura la selvetta unitamente a Yaki Mahora che vanno ad affiancare il battistrada agli inizi della piegata conclusiva, tre cavalli in linea affrontano gli inizi della piegata con Elusive Didi che mantiene lo steccato al suo esterno Yaki Mahora unitamente a la selvetta mentre più staccato Sparti Vento Chia. Cavalli in dirittura con Elusive Didi che mantiene il comando attaccato al centro dello schieramento da Yaki Mahora Elusive Didi, Yaki Mahora, la selvetta Sparti Vento Chia. In quest'ordine i cavalli ai duecento finali con Yaki Mahora che tende a passare ai duecento mentre non molla Elusive Didi, Yaki Mahora, Elusive Didi in quest'ordine sul palo Yaki Mahora, Elusive Didi, la selvetta ed il numero uno Sparti Vento Chia. Si attende l'ordine ufficiale?